Ciao Youtube! Ciao! Sono Stefano, da Italia. Oggi chiedo per tutti, per tutti, la veneziana princess. Dunque... Buongiorno princess, buongiorno veneziana princess. Come sei? Sono io Stefano. E lei dice, bene, grazie, molto bene. E tu? No, 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 non mi piace, non mi piace. Buongiorno principessa, sono io Stefano dall'Italia. Come stai? No, e poi non mi capisce. Buongiorno veneziana princess. How are you? It's me Stefano. E lei dice, fine, thank you. Oh, non so che cosa dire. I speak a little English. This is the problem. Allora, ricapitoliamo. Buongiorno veneziana, how are you? Buongiorno, good morning princess, how are you? Va bene, ok. I call her. I try to call her. I have. Proviamo. Ecco qua, proviamo. Proviamo a chiamare the venezian princess today. Ok. Andiamo. The number, the number is... Ecco, ce l'ho scritto qui. Proviamo. La noticia. Nuffic. Recuperazione. Ecco. Recuperazione. Circ幸 e così. In questa melodia mi sono... Occupate, occupate, occupate. Ecco. Repeat after. Ok, I repeat after. Eh, ecco. Buongiorno, principessa. Good morning, princess. How are you? It's me, Stefano, from Italy. Pronto? Pronto? Allo? 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 Niente. No, allo? Niente. Caduta la linea. Vi provo con un altro... Another telephone. Another telephone... A moment, please. gets... 8... 6... 1... 7... 8... 3... No, here cervella. Welli, 46 crimes. Buongiorno princesa, come sei? Sono io Stefano. Complimenti per la tua canzone, è molto bello, sei un grande cantante. Complimenti per l'Italia. Scusate, ma parlo un po' inglese. Sì, no, 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 no. Per me è un onore di parlare con te. Oh mio Dio. Ok, a presto. Ciao VP, ciao Venezia, ciao princesa. Ciao. I am very happy to speak, sì, di aver parlato con la principessa veneziana. Il collegamento è terminato. Buona serata, buona giornata o buonanotte, quando vedrete questo video. Ciao a tutti, ciao everybody, ciao dall'Italia, ciao from Italy. Ciao.